Si è tenuta lo scorso lunedì, presso la caserma Picca di Bari, la consegna delle 200 mascherine da parte dell'Associazione di Volontariato Angeli Senza Frontiere, presieduta da Vito Plantamura, che da anni si impegna con opere solidali verso i più bisognosi. Questa volta il destinatario è stato il Comando Militare Esercito Puglia, al quale l'Associazione porge i più sentiti ringraziamenti per il lavoro prestato, non solo durante la pandemia, ma costantemente, in qualsiasi circostanza, sia in Italia che all'estero. L'Associazione comunque già da quando è nata si è prefissata la missione di aiutare in tutti i modi possibili e immaginabili. È chiaro che in questo particolare periodo di pandemia, ecco che le mascherine sono diventate in qualche cosa di necessario e di utile e quindi, oltre a donarle a privati cittadini, a persone in difficoltà, immunodepressi, abbiamo pensato anche di ringraziare con questo gesto tutti coloro che si spendono giornalmente per l'Italia. Il generale di brigata Giorgio Rainò, assieme al tenente colonnello Pierpaolo Lacasella e al maggiore Mauro Lastella, ha espressamente ringraziato poi Vito Plantamura per la disponibilità mostrata, evidenziando come il lavoro, la collaborazione e il sacrificio siano gli elementi fondamentali per distinguersi nella società moderna. L'emergesta è stata veramente molto dura in tutta Italia, soprattutto al nord, ma anche al sud. Abbiamo dato un fortissimo supporto come esercito, ci siamo impegnati fin da subito a supportare la popolazione in vari modi, sia a livello nazionale ma anche internazionale. Diciamo che a livello nazionale abbiamo rimodulato l'assetto di strade sicure per poter concorrere alle forze di polizia e dare un controllo all'implementazione degli ordini del decreto del primo ministro. Abbiamo anche fornito tanto personale per salvare tante persone. Abbiamo anche realizzato un ospedale da campo a Crema e un altro a Piacenza dove abbiamo inserito varie persone, tra cui un cardiologo che viene dal Comando Militare Esercito Puglia che ha lavorato fino al termine della sua missione.